Ciao amici di Italia Top Games, allora, promosso o bocciato Dream Team dopo un mese dall'uscita? Occhio però, vi faccio questa domanda e spero che sarete in tanti a rispondere a questa domanda nei commenti del video. Però occhio, non sto parlando del gioco in campo, quello è un altro discorso, tanto oramai si è capito, a qualcuno piace molto, qualcuno lo odia, qualcuno una via di mezzo, ma lì diciamo è un discorso molto più ampio. Io sto parlando del Dream Team, ovvero del cambiamento delle dinamiche rispetto a MyClub e quindi quello che significa gli eventi, gli eventi offline, il campionato, l'acquisto dei giocatori e tutto quanto. Ora, io vi dico la mia, poi dite voi tranquillamente la vostra, intanto io prendo i miei 2500 GP. La mia è molto semplice. Allora, se fossi in uno scrutinio di una scuola superiore o di una scuola media, io per il signor Dream Team, per lo studente Dream Team, avrei due possibilità. Ho rimandato a settembre, non bocciato, ve lo dico subito, non bocciato, però ho rimandato a settembre oppure una promozione stentatissima, un sei meno meno per così dire, perché ci sono degli aspetti e poi ho cambiato idea nel corso di questo mese, sia in positivo che in negativo rispetto ad altre opinioni espresse nel corso di queste settimane. Quindi io lascerei decidere i miei colleghi. Ho rimandato a settembre, nel caso di football direi rimandato ai aggiornamenti sostanziali, diciamo, dei meccanismi, oppure promosso ma con un sei meno meno. Allora, vi dico le cose che mi piacciono e quelle che non mi piacciono, andando un po' a vedere ogni dettaglio. Allora, cominciamo da questi eventi autentici, diciamo, con le squadre. Ecco, allora, qui ci dobbiamo un attimo intendere. Ci sono due aspetti che non mi fanno impazzire. Cioè, il primo è che sono sempre quelli, cioè partite, gol, eccetera, non c'è mai l'esempio che ne so, un mini torneo semifinali e finali da giocare, per fare un esempio, oppure un torneo all'italiana di quattro partite, sempre uguali, sempre uguali a se stessi. E poi, diciamo, i premi non è che ci facciano proprio impazzire. Non c'è, come dire, in match day c'erano le monete, vi ricordate? E quindi io devo dire che nel computo del meglio o peggio, devo dire che preferivo il match day, non per l'orario, quello lo odiavo, io l'ho sempre detto, il match day aperto, diciamo, lo preferisco, diciamo, a questi eventi che sostanzialmente sono un po' fini a se stessi e sono sempre uguali. Poi questi eventi, sì, ci danno parecchi GP, ma pure loro, cioè, sempre la stessa cosa. Non c'è quel minimo di brio, quel minimo di novità. Ripeto, un mini torneo all'italiana, una specie di campionato con le squadre autentiche, non so, qualcosa che renda un pochino più frizzante, un po' più, ci dia un pochino più la voglia di giocare questi eventi. E quindi, qui, dovendo fare un riferimento con il match day, il match day aveva pessimi, gli orari ristretti, ma aveva dei premi più interessanti e poi c'era il fatto delle squadre di default. Insomma, più o meno qui, tra il match day di my club e gli eventi partita autentica, dico leggermente meglio match day, ma di poco. Poi abbiamo gli eventi dream team e qui pure, come dire, c'è da dire che non è che anche qui ci sia una grande varietà e anche i premi sono bassissimi GP, un po' di espi di allenamento e questi servono. Lo starter è a pse, è una bella cosa, ma la gioco io solamente per prendere i premi, non è che ho tutto questo a pilla anche in questo caso. Manca una sostanza, un obiettivo, un qualche cosa di differenza, non so, fare dieci gol in cinque partite, una varietà che dia maggiore voglia di giocare a questi eventi. Io non la trovo, io trovo il piacere mio di giocare ai football nel campionato, sia quando vengo promosso, sia quando vengo retrocesso. C'è la voglia, c'è di superare l'avversario, ovviamente in maniera onesta e in maniera, come dire, legittima, non come fa qualcuno. Nei prossimi giorni vedrete un video molto in tema rispetto a questo elemento che mi è costato tanto a livello di campionato. Detto questo, insomma, io devo dirvi che se non ci fosse il campionato non giocherei football. Ve lo dico senza remore. Dopo il campionato mi prende, mi ha preso la scimmia, devo dire, proprio. Cioè cerco ogni ritaglio di tempo per giocarci. Perché? Perché mi appassiona, mi entusiasma, cerco di migliorare il mio modo di giocare, cerco di fare tutto, a volte riuscendoci, molte altre volte no, ma c'è una grande voglia di giocare. Vi dico che mi ha ripreso tanto, come non capitava da tempo, cioè da PES 2021, un periodo che ci ho giocato tanto, e se non fosse per il campionato però non ci sarebbe. Il campionato però, anche se è solo una questione simbolica, mi appassiona, mi entusiasma. Devo dirvi che mi entusiasma davvero. Poi c'è il discorso, scusate, mi sono sbagliato, dei giocatori. Ora, questo è un tema molto dibattuto, però io ho fatto qualche riflessione ulteriore. Cioè il fatto di poter acquistare tramite GP tutti, ma tutti, tutti i giocatori disponibili nel gioco, secondo me rende molto più democratico il gioco rispetto a MyClub. Vero, vero, che non si possono acquistare i giocatori con le monete se non shoppando, questo è vero. Però secondo me rispetto ai altri, ai PES, con la possibilità di GP, guardate che la differenza tra i giocatori in evidenza e i giocatori GP, io ancora non l'ho capita in dettaglio, perché anche con le app presenti in rete, come PES Master, PES Sub, eccetera, non si riesce a fare proprio un lavoro certosino. Ma in maniera spannometrica, cioè più o meno, non ci sono queste differenze abissali. Certo non ci sono le leggende, ma i giocatori in evidenza non sono così differenti, se non che ovviamente sono già belli pompati rispetto ai giocatori GP, che bisogna pompare molto di più, ma fino ad oggi tra campagne, tra questo starter pack, eccetera, non è così impossibile livellarli. Certo una differenza c'è, ma c'era anche in PES, c'era anche in PES, perché sì, potevi prendere le monete con le varie modalità, eccetera, ma io non vedo questa differenza così ulteriormente aumentata. Tra l'altro, diciamolo pure, perché bisogna dirlo, i football è gratis, magari i soldi che spendevate per acquistare PES, non light il PES, se voi non avevate giocatori di Master League ma giocatori di MyClub, se li investite in monete più o meno la facciamo pari. Quindi ecco, tutta questa, cioè c'è la differenza shoppando, è ovvio, ci sono le leggende e poi si hanno giocatori belli pompati sin dal primo momento. Non sto dicendo che non c'è differenza, non sto dicendo che non c'è differenza, ma non la vedo così aumentata rispetto a MyClub. Anzi, forse si è un po' diminuita, non lo so, ho qualche dubbio, o è rimasto uguale o è un po' diminuita, o si è leggermente accresciuta, ma stiamo lì, non è che è cambiato tutto. Poi, ecco, aspetto negativo, questi giocatori del mese non livellabili, così, cioè, c'è qualcuno di voi che li utilizza, soprattutto dopo la prima o la seconda settimana, che intanto magari avete acquistato giocatori con il GP, eccetera. Io mi sono sempre trovato molto in difficoltà con questi giocatori e non li ho usati mai, anche perché non si adattano allo stile gioco. Insomma, per il momento io questi contratti me li sono tenuti tutti, ne ho acquistati solo per farveli vedere in un video precedente, ma questa è una grossa delusione, i giocatori del mese. Spero che Konami trovi qualche update per renderli più appetibili, perché così davvero, ma anche fossero 5 stelle, come dovrebbero in teoria arrivare, perché si vede qui, ecco, che ci sono anche quelli a 5 stelle. Se non si adattano perfettamente al mio modulo di gioco, boh, non lo so, da questo punto di vista sono molto critico. I giocatori del mese, proprio per il momento, hanno poco senso. E questo è sostanzialmente il primo mese di Dream Team, per quanto mi riguarda. Quindi, insomma, o essere rimandato, e quindi né bocciato né promosso, o una promozione stentata, molto stentata, onestamente con questo cambio mi aspettavo qualcosa di più da queste dinamiche. Mi aspettavo gli obiettivi, mi aspettavo questi game pass, magari arrivano la prossima settimana con la season 2, ma non è sicuro e non è ufficiale, Konami non l'ha detto, quindi magari arrivano a maggio, magari arrivano a luglio, magari arrivano a settembre, non si sa. Speriamo che arrivino la settimana prossima con la season 2. Sarei il primo ad esserne lieto, però ancora non sappiamo nulla. Magari con questi game pass, con questi obiettivi, con magari qualche altra novità, da una promozione stentata o da un rimandare, siamo a una promozione piena, 7, 7,5, 8, staremo a vedere. Per il momento questo è il mio giudizio sui Football Dream Team. Adesso vi lascio, perché devo assolutamente andare a giocare nel campionato, perché davvero lì io mi diverto, mi appassiono, imprego in tutte le lingue del mondo, non lo faccio quando registro le partite, perché non è il caso, ma dentro di me quando perdo, c'è un livore incredibile. Non ovviamente contro gli avversari, quando nel 99,99% dei casi, per il momento c'è stato solo un caso, molto molto, che vedrete nei prossimi giorni in un video, a parte quello, molto ambiguo, diciamo così, tutte le altre persone in centinaia di partite fatte, oramai in questo mese, si sono sempre comportati bene, però uno spera sempre di vincere. D'accordo, fatemi sapere cosa ne pensate, se ancora non siete iscritti al canale, fatelo subito, che qui su Italia Talk Games arriviamo sempre primi, per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti di football, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche, anche per la zona community, dove vi segnalo tante altre cose interessanti. Se volete supportare il canale, il nostro network di quattro siti, avete due modi. C'è un tasto, lì vedete, grazie, con il cuoricino. Potete mandare un'offerta per il canale, da due euro in su, ci sono vari tagli di super grazie che potete fare, qualsiasi tipo di taglio che mandate è graditissimo, oppure se dovete fare acquisti su Amazon, li potete fare passando per il link di affiliazione presente all'inizio del video. A voi non costa un centesimo di più, ve lo giuro, neanche un centesimo di più, e supportate il canale, perché una piccolissima parte del vostro acquisto, qualsiasi cosa acquistate su Amazon, l'importante è passare per quel link, andrà al nostro canale e al nostro network di siti. Grazie dell'attenzione, al prossimo video, e attendo di sapere se voi promuovete, rimandate o bocciate il Football Dream Team. Ciao!